Musica Nei nostri studi Procolo Guida continuiamo a parlare e tenere all'attenzione la vicenda di Capocolonna e Procolo aggiorniamo i nostri telespettatori anche sulla visita che c'è stata da parte del dirigente mandato dal Presidente della Regione, Olivenio Questa è una di quelle cose che abbiamo apprezzato veramente tanto perché l'intervento del Governatore non era obbligatorio fra quelli obbligatori, non era assolutamente competente né ai noi a margini di intervento anche immediato non solo rispetto alle nostre richieste ma anche e soprattutto rispetto proprio all'eggita e alle prescrizioni che quel sito ovviamente ha bisogno nel momento in cui bisogna fare qualsiasi tipo di intervento L'architetto Schiava che è il dirigente dell'urbanistica inviato dal Governatore ha avuto, crediamo, anche l'approccio più corretto e ha fatto un giro sull'area archeologica con la dottoressa Isa è riuscito anche a incontrarci, a darci anche conforto sostenendo che è l'unica cosa che si sentiva di dire perché ovviamente la sua relazione la farà prima al Governatore prima di renderla pubblica ed ovviamente l'abbiamo incontrato a indagine in corso quindi ha un'indagine conoscitiva in corso ma la cosa che ci ha fatto più piacere è che è uno di quelli che ha volutamente sottolineare che è l'intervento dei cittadini, le proteste dei cittadini in generale per lui sono una ricchezza e sono un motivo comunque di miglior lavoro di miglior lavoro, che poi dovrebbe essere il gioco normale della democrazia laddove c'è più controllo, laddove c'è più vigilanza ovviamente qualsiasi tipo di amministratore normale si dovrebbe sentire più forte di questo controllo e di questa vigilanza Diciamo che c'è una grande attenzione da parte di tutti per quanto riguarda l'area di Capocolonna e forse tutto questo serve anche veramente a risvegliare i cittadini crotonesi perché tutte le televisioni della Calabria sono venute, la stampa calabrese è tutta presente quindi dà tutte le informazioni ma dobbiamo anche dire c'è la presenza dei parlamentari del Movimento 5 Stelle che anche stamattina se non sbaglio mi hai detto sono stati a Capocolonna C'è quindi questo grande interesse che significa allora che Capocolonna non può passare sotto banco come progetto ma Capocolonna deve essere attenzionata perché chi sente parlare di Capocolonna probabilmente fa un tuffo nel passato e si rende conto della preziosità dell'area Giusi permettimi di ringraziarvi e di ringraziare questo emittente così come l'attenzione che dicevi tu mediaticamente ma anche di sottolineare scusatemi l'assenza assordante del servizio pubblico come hai detto tu c'è stata e c'è l'attenzione di tutti i media ovviamente è un'attenzione equilibrata noi non pensavamo di avere la forza o di ottenere forza da parte dei media anzi tutt'altro il contrario il discorso fa proprio veramente è parallelo all'attenzione che dicevi tu su Capocolonna e sulla sensibilità dei cittadini noi per primi ci siamo autodenunciati che siamo noi quelli che abbiamo abbandonato da anni Capocolonna noi ci andiamo solo durante il perlegrinaggio della Madonna di Capocolonna e se abbiamo la fortuna di avere qualche parente o qualche turista di nostra conoscenza per fargli fare una passeggiata il problema è che proprio serve a noi stessi questo tipo di battaglia per vedere se concediamo a noi stessi come cittadini impegnati in battaglie ma anche nel vivere comune a dare il nostro contributo nell'amministrazione dei beni una domanda su questo ti faccio in questi giorni anche dopo che siete stati la zona è stata evacuata da parte degli uomini di Egos c'è una presenza maggiore di cittadini i cittadini stanno facendo dei turni insieme a voi rimangono un'ora, una mezz'ora a secondo delle proprie possibilità anche su Facebook portate qualcosa da mangiare ai nostri amici che sono lì fermi a Capocolonna quindi forse ecco sta passando questo messaggio e sta passando anche il messaggio giusto cioè non è una strumentalizzazione legata a voler essere l'attenzione della cronaca giornalistica ma quanto è piuttosto la difesa di un'area che così come ha spiegato egregiamente e con grande signorilità Margherita Corrado è un'area che per noi potrebbe rappresentare un vero futuro sotto tutti i punti di vista e detto benissimo siamo alla sesta notte noi abbiamo avuto le prime due lotti fatte in 6-7 adesso addirittura siamo oltre 50-60 come minimo e poi sul mangiare basta non portate più niente se è un appello perché l'ultima proprio ci ha visti con Covatelli questo è il bello di Crotone però assolutamente lo dico ridendo ovviamente perché è una gioia e questo pellegrinaggio laico di cui tu parlavi è la cosa altrettanto bella ma anche tragica perché invito i crotonesi come avranno detto ormai i tanti che sono arrivati a vederlo di persona quella colata di cemento perché fa impressione a vederla le vostre immagini sono puntuali ma il vederlo dal vivo noi siamo stati fortunati perché abbiamo avuto l'opportunità di essere presenti proprio quando era iniziata la colata e quindi è chiaro che sono immagini importanti immagini importanti come quando c'erano le immagini delle fabbriche e poi vennero da noi gli uomini della questura perché avevano necessità dicevano abbiamo saputo che voi ce le avete ecco queste sono immagini che sono a disposizione di tutti perché chiaramente noi vogliamo il rispetto della legalità nella nostra terra ma soprattutto vogliamo che crotone possa veramente uscire da questa situazione assolutamente e voglio ringraziare la sensibilità anche del ministro sull'intervento al di là poi voglio io strumentalizzare perché sono certo che c'è chi si aspetta che i propri interventi possono essere diciamo in risposta e buttarla sulla rissa noi ringraziamo il ministro della repubblica che credo come qualsiasi altro in qualsiasi altra occasione fra l'altro calabrese fra l'altro è di monasteraggio e sul sito di monasteraggio che è un sito archeologico di grande importanza a quello di capocolonna credo che si sia sentita proprio in doppio dovere di intervenire possiamo dirlo fra qualche ora sarà crotone e ci per anche credo per avere diciamo un approccio ancora più diretto rispetto alla questione l'aspettiamo e la ringraziamo non come nostra paladina dobbiamo essere ripeto noi cittadini essere i paladini dei nostri interessi e dei nostri beni come è andata la notte? le notti sono io ho detto sono appassionanti e appassionate perché senti con ancora più forza la forza di capocolonna la magia di capocolonna non solo per il cielo c'è una magia proprio importante ma al tempo stesso questa magia ti fa sentire una responsabilità ancora più forte nei confronti dei tantissimi giovanissimi che sono arrivati nelle ultime due notti in maniera particolare e soprattutto nei confronti di quello che vuoi a tutti i costi e noi avremo questo incontro con il prefetto che per noi probabilmente non sarà dirimente ma comunque è fondamentale perché ecco i meccanismi abbiamo almeno ricostituito è stato rinviato se non sbaglio l'incontro col prefetto alle 17.30 lunedì andremo da sua eccellenza il prefetto e sono certo c'è una delegazione che è già stata individuata di quattro fra i quali ci sono io c'è il nostro gioiello Margherita Corrado che sarà diciamo allora noi ci troviamo di fronte a una querelle tra il sindaco e il ministro Lanzetta c'è il sindaco di Crotone Bacchetta e il ministro Lanzetta ci troviamo di fronte a due esposti uno nei confronti degli occupanti dobbiamo dire di questo comitato spontaneo uno da parte di due associazioni Sette Soli e l'altra associazione Gettini di Vitalba che in maniera molto dettagliata hanno presentato un esposto insomma le nostre vicende più importanti finiscono sempre in tribunale vero? Speriamo di no io sono convinto io per quanto qua non parlo del nome del comitato ma è una mia convinzione credo che ognuno abbia i margini i termini per poter diciamo chiedere i danni personali perché di tutti noi rispetto a questo tema però c'è anche l'intervento della commissione cultura che ha Sì infatti ti volevo fare la domanda anche sul posto che ci basta convocata dal vicepresidente Fabrizio Meo che ci basta c'è sufficiente per non dire nulla loro esprimono chiedono di sospendere i lavori di fermare i lavori assolutamente a noi basta leggere il testo di quel comunicato e devo ringraziare è venuto il consiglio di Meo a spiegare a tutti i ragazzi che eravamo lì durante la notte fra l'altro ecco a proposito delle nottate i dettagli di 14 pagine di verbale perché la commissione è durata tre ore e mezzo perché addirittura c'era la possibilità di convocare un consiglio comunale tante altre cose ma noi è bastato e basta il comunicato ufficiale che della commissione cultura dove sottoscriviamo pienamente ogni parola e credo che il sindaco sotto questo aspetto debba anche considerare che la propria maggioranza la pensa forse in una maniera un attimo differenzialmente ma poi tra l'altro dobbiamo dire che c'è anche un comunicato di Giuseppe Dell'Aquila che è vicepresidente dei giovani del PD credo direttamente che in qualche modo la stampa riporta sconfessano il sindaco Vallone quindi chiedono di dibattere queste cose che riguardano l'amministrazione la politica all'interno del partito insomma c'è anche questo allora siccome noi riteniamo che bisogna sempre fare verità su tutto quello che succede nella nostra città perché questo serve a far crescere la consapevolezza della cittadinanza di tutti noi in questa intervista io chiudo dicendoti si andrà avanti senza sosta in questa vicenda al di là dei litigi che si possono avere delle cherelle che emergono io so che anche tu spesso e volentieri ti ritrovi a dover litigare in difesa di questa posizione assunta da un bel gruppo di cittadini tra l'altro ci sono tantissimi giovani quindi questo fa ben sperare che i giovani guardano avanti con una grande attenzione e vogliono essere protagonisti del futuro della nostra città io credo che di non essere in questa occasione ci conosciamo da tempo così ottimista da pensare che troveremo una soluzione una risoluzione che soddisferà tutti e che soddisferà soprattutto quelli che diciamo hanno delle perplessità hanno lo spirito per venirci a sostenere ma hanno delle perplessità perché a buttare diciamo anche dubbi sulla qualunque a Crotone siamo bravissimi ma credo che questa sia un'opportunità l'abbiamo detto sin dall'inizio poi li faremo i commenti c'era un momento dei commenti diciamo politici tu dici adesso bisogna andare avanti no assolutamente bisogna essere determinati per rimuovere quello scempio rimodulare due milioni e mezzo di euro di intervento su capocolonna ne ha bisogno capocolonna cioè ne ha bisogno sito archeologico ha bisogno quel sito archeologico di avere una nuova storia di autotutela e soprattutto di rispetto di quella spiritualità quello da sempre è stato un luogo spirituale prima con Pitagora poi con la Madonna di Capocolonna dobbiamo avere rispetto di questa tu lo conosci il detto io lo dico sempre perché questo è un detto che io ho trattato tra l'altro in una relazione in un incontro la maledizione di Pitagora camminerete su loro e non ve ne accorgerete magari prima che venisse fuori tutta questa situazione pensavamo che l'oro potesse essere anche il metano e la gestione di questa risorsa che non porta assolutamente a Crotone quello che dovrebbe portare pur essendo Crotone la città che dà il maggiore contributo in termini di metano però l'oro è proprio Capocolonna allora questo oro noi dobbiamo sfatare questa maledizione e dobbiamo fare in modo che sia un oro per tutti nel senso che si possa ripartire con il lavoro con gli scavi con il rilancio del turismo culturale dell'antica Crotone secondo te si riuscirà ad avere questa opportunità di ripresa? Questa lotta è venuta a trovarci direttamente nel Reggio Calabria il colonnello Amodeo l'ha sentito come una forma non è arrivato neanche a casa lui fa praticamente in nave in barca fuori tutto il tempo ha detto pensa tu guardando cosa sarebbe una passerella sul mare con solo l'accesso a piedi credo che potrebbe essere un'attrazione mondiale una passeggiata di 3-4 km sarebbe non di più da Crotone cioè dalla punta della basterebbe quello e ci vorremmo bene e l'oro sarebbe veramente eccelsio di queste ce ne potrebbero essere tantissime di idee come queste ma basterebbe semplicemente lasciare come le immagini che state facendo questo oro brillare di luce propria e allora chiudiamo dicendo Crotone svegliati è tempo di smettere di essere un popolo rassegnato un popolo silente un popolo che sta alla finestra dovremmo riscoprire quella nostra identità che è venuta fuori nel momento della difesa delle fabbriche perché credo che quella sia stata la pagina più bella della società crotonese capace di scendere in piazza di essere presenti ovunque e di dire Crotone vuole uscire da questa situazione quindi credo che veramente sia il momento di invitare i cittadini a riscoprire l'identità lancio un appello anche in vista di tutte queste presenze domani quella del ministro Lanzetta per far capire a tutti che Crotone c'è e che sicuramente non si nasconde dietro il dito ma hai detto benissimo proprio l'ultima pagina dall'ultima pagina di passione civile per la nostra città abbiamo avuto così occasionalmente modo di aprirne forse un'altra credo che Crotone la Crotone che si vuole bene la Crotone che vuole bene i propri figli la Crotone che pensa a un futuro normale di questa città non possa che venirci a trovare e a guardare e a osservare e magari darci nuova linfa nuove idee e nuova passione civile anche e non solo per l'area archeologica ma per vedere questa città brillare ripeto di luce propria grazie Proccolo di essere stato con noi abbiamo fatto anche e oggi l'aggiornamento lo faremo domani lo faremo tutti i giorni perché insomma dobbiamo difendere questa nostra identità e dobbiamo difendere questa nostra grande ricchezza questo patrimonio che sicuramente può essere un patrimonio riconosciuto da tutto il mondo ma che deve essere un patrimonio crotonese da esporre per ricostruire anche la nostra storia un popolo senza passato non ha futuro il nostro passato è tutto sotto i nostri piedi grazie per essere stati con noi grazie a tutti grazie a tutti grazie a tutti